Per riprendere un po' quanto ci eravamo detti nella pre-partita, con il sorriso aveva consentito, aveva sostanzialmente detto sì al nostro piano partita, aggredire e ripartire, nei primi 15 minuti il gioco era perfetto, poi? Eh, va bene, no, diciamo... Delle infortunie del portiere. E che quello purtroppo ci sta in una partita, no? No, no, ma è stata la partita che comunque mi aspettavo. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, non era semplice, non era semplice perché venivamo da una bella batosta che abbiamo subito a Bercelli, quindi sono ragazzi e reagire in quel modo, in una sorta di derby dell'Adriatico, quindi vi devo fare i complimenti miei, sinceramente. Poi il secondo tempo abbiamo sofferto, comunque il Pescara ha grossa qualità tecnica, di gamba, e quindi nelle situazioni, diciamo, palla mia, palla tua, siamo stati bravi a leggere tante piccole cose, poi dopo è normale che comunque puoi concedere qualcosa. Io penso che sia stato uno spot bello per la Serie C, dai, perché è stata una bella partita, quindi alla fine ci prendiamo sto pareggio, muoviamo la classifica e andiamo avanti. Riguardiamo un po' quei primi 15-20 minuti, avete aggredito soprattutto sulla catena di sinistra vostra, di destra del Pescara, Floriani spesso in difficoltà su Cioffi, Paolucci si inseriva con i tempi giusti e lì la partita l'avevate fatta molto molto bene. Poi è stato bravo il Pescara a prendervi le misure o tenere quei ritmi era un po' complicato? Ma guarda, non lo so, però ti dico che la mia squadra è una squadra che lavora in un determinato modo, oggi l'hai fatto e poi non te l'ha permesso il Pescara e quindi ti sei dovuto riadattare e l'abbiamo fatto. Questo è il calcio, le 95 minuti, come dicono tanti allenatori, ci sono più partite, quindi alla fine ti prendi il pareggio, muovi la classifica, però ti ripeto dal punto di vista mentale non era una partita semplice, perché andare due gol sopra e subirne tre, sfidere chiunque a ritrovare energie come le abbiamo trovate noi. Io faccio l'ultima domanda prima di una da studio e sarò brevissimo con la Vitto. Prima della partita ha detto che i miei giocatori sono tutti messi a Cristiano Ronaldo, quindi non le vorrei levare nessuno al Pescara, però dopo ci può dire che gli è piaciuto tanto del Pescara questa sera. Questo è un voto non da allenatore ma da giornalista, lo può dare? No, ma io ti dico, la qualità del Pescara la si conosce, è normale che comunque io penso che sia stata allestita una squadra di giovani di qualità, quindi indipendentemente dal nome che ti faccio. Uno, dai, per la croce. Ti dico Cuppone, l'avanti, ma perché Cuppone non l'ho mai incontrato sul campo, non l'ho mai visto sul campo. Fastidioso? Fastidioso, sì, 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 poi comunque piace attaccare la profondità, ma anche il saper ricevere palla a spalle al difensore, insomma ho visto alcune situazioni che mi sono piaciute. Poi è normale, dal più piccolo al più grande, dal portiere a Mero. Una domanda a uno e salutiamo Colavitto, gli diamo l'auricolare, Massimo così li ascolta. Il saluto a Gianluca, la domanda la farà Fabio Ferraresi. No, io saluto anche io il mister, gli volevo chiedere se è contento del suo percorso da quando è rientrato in panchina qua a Ancona, io credo che stia facendo un buon lavoro, non so lui se è più autocritico. Io ciao innanzitutto, vi ringrazio, non è la prima volta che subentro, ho detto spesso che il calcio è uguale dalla Serie A alla terza categoria. È normale che quando subentri devi entrare nelle logiche relazionali di un gruppo, devi entrare nella testa dei ragazzi che non conosci, quindi devi cercare di far capire determinate cose e per l'ennesima volta se mi posso fare un piccolo applauso ci sto riuscendo. Ecco io mi ricordo ancora il miracolo di Avezzano Gianluca, lo dico spesso. E lì è stata una delle cose allucinanti, perché veramente lì fai tutte esperienze, tutto bagaglio che ti porti con te, però ti dico domenica scorsa sono cresciuto ancora tanto, perché veramente non mi capitava una sconfitta del genere da allenatore in quel modo, però non ho dormito quattro notti, quattro notti mi sono servite per capire bene dove cavolo ho sbagliato, sicuramente ho sbagliato qualcosa e quindi mi auguro che in futuro non sbaglierò. Grazie a Colavito e in bocca al lupo. Ne approfitto per salutarvi e farvi gli auguri di Buon Natale. Grazie a te, mister, e grazie ancora.